Grazie a tutti. I nostri ospiti, i nostri Alessandro Ceccoli, buonasera. Ciao, buonasera Loriano, buonasera a tutti. Buonasera a Daniele Bacchi, sempre qui per noi. Buonasera, grazie per essere qui. E il nostro ospite speciale di serata, il condottiero dell'NTS Informatica, coach Andrea Maghelli. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Buonasera coach e naturalmente parliamo subito di questa partita perché è una partita non facile alla vigilia. Chiaramente i club si devono un po' scoprire questo campionato di tanti avversari, subito non si hanno magari quantità di informazioni così eccessive. È una partita tirata, complicata, che i Krebs hanno ribaltato proprio la fine con grande voglia, con grande intensità, con un finale proprio da squadra quasi esperta, anche se l'energia dei giovani è aiutata. Sì, è stato un finale decisamente rocambolesco, nel senso che la partita si è conclusa in un parziale di 12-0 e non è facile contro una squadra così esperta come Padova, per una squadra giovane appunto come la nostra, in situazioni di tensione ovviamente, di un finale che sembrava in qualche maniera, era una partita, si era messa non benissimo dopo i due tecnici che abbiamo avuto proprio alla metà del quarto periodo. I miei ragazzi sono stati duri mentalmente, sarà molto importante appunto recuperare la concentrazione, poi chiudere le mani in difesa. Abbiamo trovato anche una discreta continuità di canestro in attacco, quindi una partita che secondo me aiuterà molto la squadra a crescere mentalmente, a crescere come voglia di, insomma come consapevolezza, come carica, come energia, come tutto quanto, perché è una partita che sapevamo sarebbe stata molto dura, ed è stata molto dura, con un finale che però ci ha dato la possibilità appunto di finire di slancio e di andare a vincere la partita. Mi ricollego a quello che dicevi adesso, insomma, anche perché è stata la prima partita di un certo tipo, la prima questione di tesseramento di Lecco, la seconda persa con gli avversari che magari erano andati via nella parte centrale, non tirata, questa è proprio la partita in cui magari ci si rende conto che i Caps ci sono. Sì, sì è vero, la prima partita è stata, vabbè, per motivi che tutti conosciamo, per problemi di tesseramento, Lecco si è presentato alla squadra Under 20, quindi è stata una partita, insomma, facile per noi, diciamo, le cose come stanno. A Vicenza, come dicevi tu, appunto gli avversari nel secondo, terzo, quarto, sono andati via, sono scappati, abbiamo fatto fatica a stargli dietro, un po', l'hanno messa un po', insomma la partita è diventata molto fisica in quel momento e non siamo più riusciti a riprenderli. Però appunto questo ci ha fatto crescere nella partita poi contro Padova, quando nel momento in cui serviva metterci un po' di fisicità in campo, i ragazzi sono riusciti a farlo, al contrario di quello che era successo lì a Vicenza. Quindi sì, effettivamente una prima partita in cui ci si può cominciare a guardare negli occhi e cercare di capire dove possiamo andare. Alessandro, le prestazioni personali dei giocatori, 13 di Myers con dei liberi importanti, Busetto, non dico che ha sfiorato la tripla doppia, ma insomma si è dato da fare anche a livello rimbalzi assist, Signorini 10, il solito contributo di Fogliera, cosa ti ha, così, fatto brillare gli occhi di più nella prestazione singola? La capacità, più che il discorso dei singoli, perché magari qualche mattonzino l'ha messo i nomi che, soprattutto dal punto di vista dei punti, in determinati momenti della partita, ognuno ha messo il suo contributo. Però la cosa più importante che ho visto io è stata la capacità, come diceva Andrea prima, due volte di recuperare due break importanti, ma mentre il primo è venuto diciamo in una fase abbastanza fresca della partita, il secondo era nella parte finale della partita, la capacità due volte di ritornare da un meno nove, soprattutto negli ultimi cinque minuti, buttandola sull'aggressività, sulla mentalità, sulla consapevolezza di potercela fare, è stata secondo me la cosa più importante. L'ho vista più come una vittoria, al di là degli aspetti singoli, più come una vittoria di squadra, di ragazzi che hanno capito che ce la potevano fare, ci hanno creduto fino in fondo e sono riusciti a togliere delle certezze a Padova, che faceva la voce grossa, perché c'erano i due torelli lì nel mezzo, che adesso uno, mi scappa il cognome, Lazzaro, Lazzaro poi era anche molto, sembrava anche molto riscioso da lontano, cattivo, parlava molto, quindi la capacità di mettere le cose al posto giusto e di prendersi questa partita che era importante, soprattutto perché era contro una squadra che era accreditata, aveva già due vittorie ed è accreditata comunque di poter fare un campionato di vertice, quindi voglio dire, due vittorie portate a casa, una sconfitta contro una squadra comunque importante, è un buon bottino per il momento, ma ripeto, secondo me la consapevolezza di potersela giocare, diciamo così anche se siamo alle fasi di sale, un po' con tutti, squadra giovane. Daniele, naturalmente oltre alla tua analisi ti cito due nomi, soprattutto Mladenov, e poi se ti ha sorpreso questo tipo di utilizzo del coach, e anche Signorini, perché Signorini mi sembra stia dando consistenza alle sue prestazioni ed è comunque un 98 che, d'accordo, il settore giovanile Krebs ha bagnato il naso anche l'anno scorso, però questa continuità in Serie B sta cominciando ad averla adesso. Sì, senza dubbio, vorrei aggiungere anche il nome di Tartaglia, che mi è piaciuto tantissimo perché le prime uscite è stato un po' così così, però ieri ha dimostrato freddessa, serenità, è stato in campo bene, ed è comunque un ragazzino diciottenne, secondo me è stato estremamente importante. Signorini sta diventando una figura fondamentale. Noi per due anni non abbiamo avuto modo di capire che cosa poteva dare Signorini, perché era o molto rotto o abbastanza rotto, quindi l'abbiamo visto così, a sprazzi, e invece in termini di fisicità e anche di mano addomesticata non possiamo che dire bene. Quindi c'è da crederci sulla figura di Signorini. Vladeno aveva un altro discorso, la partita precedente aveva fatto molto bene, stavolta Maghelli gli ha fatto una trappola, perché l'ha messo sì con il regalo del quintetto base, però l'ha messo anche davanti a quello più difficile da gestire, e insomma Poerino ha sofferto davanti a questo. Però quello che c'è da dire è che non si è tirato indietro. È stato battuto, è stato superato, ha fatto tre falli uno attaccato all'altro, però lui è stato lì, non ha ceduto, e questo è comunque un mattoncino al suo favore. La Lega gli ha dato un meno, ovviamente, ha sbagliato un tiro, ha fatto tre falli, cosa vuoi, cosa vuoi, ma il campo, secondo me, gli può dare molto di più, perché lui è uno che è piccolo, bisogna dargli spazio e secondo me ne arriva. Coach, l'avevamo anche citato parecchio nell'ultima puntata con Daniele Alessandro, per le prestazioni nelle giovanili, però in prima squadra descrivici un po' questo ragazzo e anche, l'hai spiegato anche nel dopo partita, ma insomma descrivincelo qui anche alla nostra platea, il motivo del quintetto base, insomma. Sì, lui è un ragazzo che è indubbiamente un gran talento, fino all'anno scorso aveva un pochettino di difficoltà di concentrazione in difesa, cosa che invece su cui ha lavorato nel frattempo e adesso è anche un giocatore importante in difesa, è il motivo per cui appunto domenica è entrato nei primi cinque. A parte aver fatto una settimana di allenamento perfetta, molto concentrato, molto attento a tutti i dettagli, a tutte le sfumature che gli venivano richieste durante gli allenamenti, c'è da dire che ha dimostrato, ripeto, in questo periodo di avere le gambe buone, le braccia lunghe, le mani veloci, per difendere su un giocatore importante come era appunto piazza il giocatore playmaker su cui lui ha dovuto giocare per tutta la partita. Il nostro obiettivo era tenere lui appunto piazza fuori dalla creazione del gioco in quanto insomma dalle varie situazioni, le varie partite abbiamo visto di Padova, c'era sembrato abbastanza lampante il fatto che da lui passasse tutto il gioco della squadra. Quindi l'idea di mettere Mladenov dall'inizio su di lui era proprio per mettere in uno che se avesse fatto tre falli subito non sarebbe stato un problema e che era stato responsabilizzato anzi proprio a fare fallo nel momento in cui dovesse essere stato battuto. Quindi lui il suo lavoro l'ha fatto assolutamente bene, ha fatto quello che gli era stato richiesto e non sarà per lui o forse anche un po' per lui però effettivamente piazza non entrare in partita fino alla fine e quindi Mladenov ha avuto ragione in questo caso. Ha avuto ragione. Messaggio Federico. Maghelli ha avuto ragione. No, lui lo incarna. No, Maghelli prima di tutto insomma. Io dal punto di vista, l'ho sempre detto e ripetuto anche negli scorsi mesi, noi qui sul territorio anche a largo di scorsi, ma anche il Baschietrimini, qui presente il coach, ha la fortuna di avere un allenatore super, credo, per la categoria e mi ricollego al messaggio che ci è arrivato. Federica, prego. Allora, complimenti alla copiata Galli Maghelli. Peccato che non ci sia più l'allenatore serbo che era bravissimo. Ecco, allora, credo sia ironico, è da interpretare, poi Alessandro aiutami, credo sia ironico su Mladenov, che però è il padre del nostro protagonista di ieri, che però era bulghero. credo sia ironico, sinceramente, però insomma, lascio a voi l'interpretazione. Non so cosa dirti, guarda. Non penso sia una cosa... Ma forse per serbo si riferiscono a Goran Fierci, che è bravissimo, perché lui è fatto parte della prima squadra. Nello staff. Ha fatto parte della prima squadra, ora non so se riferimento... Ancora, credo, nel settore giovanile del Baschietrimini e sia nell'ambiente del... Beh, perché Goran ha fatto un paio d'anni nello staff della prima squadra, quindi probabilmente riferimento a lui... E lui è indubbiamente molto bravo, sta lavorando molto bene con i giovani, è rientrato... Ero stato troppo malizioso... Troppo malizioso. ...nel beccare l'ironia su Mladenov, insomma. I risultati della giornata dicono che al di là della vittoria della NTS informatica su Padova per 69-66, Forlì, Tigers Forlì, Lecco 78-68, Olginate ha perso in casa con Vicenza, che insomma si conferma quella che avevano visto i creps 82-85, Viacenza-Costa-Volpino 82-76, c'è la prima vittoria del Green Basket Palermo con Faenza 85-83, Crema-Lugo 71-58, questo è un risultato che interessa, poi il Basque 2000 Reggio Emilia che perde in casa con Bernareggio 61-69, 100 Desio 76-65, il Sandro ti ha visto qualcosa che ti può sorprendere ancora talmente presto che è difficile. A me personalmente non mi ha toccato niente di particolare, a me la cosa che mi ha più stupito è stata la vittoria dell'NTS contro Padova, sono sincero. Stupito nel senso che non mi aspettavo una squadra così determinata, così intensa da potersela giocare fino in fondo contro una formazione più... Era arrivato alla partita abbastanza tranquillo che perdevamo, sono sincero. E sono stato piacevolmente smentito, quindi bene così. La classifica dice che a punteggio pieno ci sono Crema-Vicenza e 100-6, a 4 ci sono, oltre all'NTS con le due vittorie e l'unica sconfitta, ci sono Piacenza-Padova-Bernareggio e Tigers Forlì. A 2, Olginato e Lugo, Lecco, Palermo e Faenze, a 0, Desio e Costa Volpino e Reggio Emilia. Daniele, Padova, più 31 con il Green Basket Palermo, più 7 con Tigers Forlì, ancora per mettere insieme qualche collegamento con i risultati, che dice che forse adesso c'è anche un po' di, all'inizio del campionato e anche adesso, nelle prime settimane, un po' di montagna russe nelle considerazioni e nelle valutazioni. Quando è che capiremo quanto vale questa squadra? Perché questo è un risultato importante. Su questo senza dubbio. Al momento siamo ancora nella fase che dobbiamo crederci e quello che abbiamo visto ieri ci permette di crederci un po' di più. Secondo me dovremo aspettare almeno ancora fino all'ottava per cominciare a capire chi siamo noi perché ritengo che questa squadra abbia ancora dei margini di miglioramento da definire, non si capisce, almeno dal mio punto di vista non capisco ancora quanto possa dare. E poi vedere soprattutto come si sistemano le altre, che cosa fanno e soprattutto cosa faranno poi quando potranno magari aggiungere qualche giocatore, cosa che molto probabilmente da noi non succederà. Solito discorso vecchio, no? Io ho paura di una cosa, che se la squadra di Mago vince un altro paio di partite uno glielo tolgono anziché da... No, su questo non ci credo perché l'anno scorso che era partito molto bene li ha avuti da inizio alla fine quindi dai, nessuno è fuggito. No, assolutamente. Invece vedo più probabile che non arrivi nessuno mentre altre squadre probabilmente se hanno budget più ricchi non è scuso che cambino come fece poi Venafro l'anno scorso che sembrava una squadra del cuscinetto poi alla fine ha fatto paura a metà campionata. Venafro è stato un caso particolare tra i giocatori molto importanti. In ogni modo dai, sarà bello, sarà bello. Sarà bello anche questo. I top di giornata per punti rimbazi. Punti 29 Motta del basket 2000 Reggio Emilia rimbazi 14 Farioli del basket 2000 Reggio Emilia molto male. Molto male sono di Emilia. Il rapporto con il tipo di aspettative perché insomma c'è stato un inizio di estate a fari spenti poi c'è stata questa squadra presentata così voi chiaramente avete lavorato sia di scouting avevi raccontato nelle precedenti conferenze stampa sia in palestra con i ragazzi però insomma la squadra è presentata all'ultimo in rapporto con le aspettative del pubblico ci tenete conto e aspettate più pubblico pensate a lavorare pensate che poi saranno comunque come sempre i risultati Sì è un po' complicata è una situazione un po' complicata da gestire nel senso che ok dal mio punto di vista noi abbiamo un certo tipo di budget da rispettare quindi da professionista uno fa la squadra cioè fa la squadra ovviamente insieme al resto della dirigenza insieme alla società si fa la squadra e si allena quindi questo è il il mio punto di vista nel momento in cui io accetto di di lavorare con una squadra consapevole ovviamente degli obiettivi e dei limiti e delle cose buone e cattive che facciano parte di questa squadra uno si mette giù lavora dalla mattina alla sera più che può per cercare di ottenere il massimo il discorso del pubblico inevitabilmente il pubblico a Rimini è sempre molto insomma è molto esigente nel senso ovviamente abituato a vedere una palaganestra di un certo tipo e inevitabilmente al momento se uno è abituato a vedere partire di serie A al momento non stiamo facendo la serie A questo lo sappiamo tutti c'è da dire però che a noi farebbe molto piacere se la gente venisse perché noi lavoriamo non meno di quanto lavoreremmo se facessimo la serie A il discorso è questo noi siamo in campo mattina sera siamo davanti a video tutti i giorni c'è gente che lavora io parlo ovviamente di staff tecnico c'è anche uno staff dirigenziale che lavora duramente per cercare sponsor per cercare nuove aperture nuove situazioni quindi i ragazzi stessi sono tra l'altro anche molto giovani quindi avere una spinta in un momento difficile fa piacere nel senso che a volte inevitabilmente l'essere troppo esigenti può sfociare nell'essere critici che è comprensibile assolutamente non è una cioè non è un diciamo una sorta di lamentela però poi bisogna anche capire che chi sta lavorando nel momento di difficoltà è proprio nel momento di difficoltà in cui c'è bisogno di qualcuno che ti dia magari una pacca sulla spalla per dirti dai forza quindi a noi fa piacere quando c'è il pubblico che è lì che ci incita come è stato l'anno scorso c'è stato un momento in cui dopo un inizio un po' difficile del nostro rapporto con gli spettatori c'è stato un momento del campionato in cui la gente era lì e ci supportava costantemente c'era gente ci sono stati molto spesso i tifosi che sono venuti in trasferta dei gruppetti di tifosi a venire a vedere le partite anche lontano in trasferta fa piacere speriamo ci proviamo davvero in tutti i modi per cercare di riavere queste situazioni perché queste prime due partite interne vabbè è un complice di un'estate un po' lunga il palazzetto è stato un po' c'è sempre la scusa le befane il mare c'è sempre su no vabbè è inevitabile insomma al momento ci farebbe piacere se la gente venisse anche perché noi noi lavoriamo duro i ragazzi ci tengono i ragazzi sono lì a buttare il sangue in palestra ogni giorno e credo che meritino anche magari un pochettino di spinta del pubblico che quando c'è a Rimini il pubblico si sente quindi sarebbe bello avere di nuovo i tifosi a urlare per la squadra anche perché il 105 stadium non esiste più si chiama RDS stadium stiamo in questo bel cattino del Flaminio come si diceva una volta focus sui giovanili l'under 20 eccellenza dei Krebs la scorsa settimana aveva perso 77 a 81 con Monte Granaro con 25 di signorini e questa sera giocava in casa della mensana a Siena la seconda partita l'under 18 di eccellenza gioca in casa della BSL giovedì mi pare coach l'under 16 ha perso con Piacenza 53 a 68 l'under 16 Titano Villanova invece di San Marino Verrucchio gioca a Sabato Rezio Emilia e l'under 15 di eccellenza dell'IBR ha perso con San Ladro 107 a 59 la prima e ha vinto la seconda con Ponte Vecchio di 2 61 a 59 Cambiamo categoria per un attimo andiamo a vedere cos'è successo in Cigold in Cisilver per le squadre del nostro territorio in Cigold niente da fare per San Marino che ha perso in casa la sua terza partita da questo inizio di campionato dopo il tesseramento di Ricky Silvestrini che ha fatto un po' di rumore nella settimana precedente l'infortunio di Zannoni ha perso 67 a 73 confidenza partita equilibrata confidenza che ha fatto lo sprint decisivo negli ultimi minuti per la squadra di Coach Foschi adesso una trasferta abbastanza complicata in casa domenica prossima di una corazzata del girone come la Virtusimola in Cisilver perdono anche gli Angel di Sant'Arcangelo in casa di Medicina 78-69 19 di Dine 15 di Bianchi per Sant'Arcangelo sempre avanti Medicina anche se non di molto la prossima partita di Sant'Arcangelo sarà contro Granarolo anche qui partita difficile Granarolo imbattuta però Sant'Arcangelo la giocherà in casa le soddisfazioni in termini risultati arrivano dalla Serie D perché Riccione fino a questo momento è un rullo compressore ha vinto di 7 anche in casa degli Stars Cosferro ne ha avuti 19 da Sacchetti 18 da Brattoli 14 da De Martini che sono insomma la coppia che ha che si è meglio espressa in questo avvio di campionato la prossima partita Riccione riposa mentre Bellari è andata a capo Ozzano 78-68 ne ha fatti 29 indovinate chi provate a indovinare German forse ne ha fatti 29 German esattamente e la prossima partita sarà in casa di Ferrara la prossima partita invece dei Krebs il coach si gioca sabato a Lugo alle 20.30 e uno dice Lugo ha perso a Crema 71-58 Lugo ha due punti e uno fa la matematica e adesso si va a vincere però chiaramente è uno scherzo della classifica è uno scherzo poi raccontaci tu naturalmente il valore tecnico di questa squadra anche perché come abbiamo detto all'inizio della trasmissione magari ancora presto per i non addetti ai lavori addentro ai lavori capire le potenzialità di una squadra o dell'altra Lugo è una squadra una squadra una squadra giovane innanzitutto una squadra molto giovane fatta di sì come noi più o meno l'età media è pressoché la stessa una squadra fisica una squadra alta grossa tutti i giovani talentuosi che vengono da insomma da vivai da settori giovani importanti quindi hanno puntato alla linea verde però insomma mirando a giovani di di talento sicuramente sia talento fisico che tecnico sarà una partita partita dura anche perché loro stanno giocando bene hanno insomma sono in un buon ritmo si si stanno cominciando a conoscere abbiamo fatto un amichevole in precampionato ma era la nostra prima settimana quindi noi eravamo ancora in fase di di costruzione loro invece si allenavano da tanto tempo quindi una squadra sarà una partita dura è una squadra che è aggressiva che gioca aggressiva una squadra che che corre che difende è un po' assomigliano un po' a noi diciamo come struttura di squadra forse decisamente più alti e più grossi Daniele come vedi questa partita insomma è anche una trasferta vicina cosa ti aspetti dalla partita sicuramente complicata la loro classifica non dice la verità in più il campo di Lugo non è un palazzetto elegante è una scuola che hanno quella caratteristica fondamentale di essere ostili già semplicemente dalla costruzione e temo che sarà un bel impegno grosso però se loro giocano così sono in grado di portarla in fondo forse qualche canestro in più servirebbe le nostre medie non sono fenomenali però arriveranno però è anche vero che Padova ha tirato domenica ha tirato ieri ha tirato col 40% da 2 ha preso 9 rimbalzi in meno il bilancio perso recuperato e vede più 10 rimini meno 10 Padova quindi contro una squadra più forte l'intensità difensiva la voglia di mordere ti aspetti anche che ci sia qualcuno che possa fare un salto dal punto di vista della produzione di punti o basta per vincere partite importanti io mi aspetto che ci sia qualcuno che migliori le percentuali di tiro perché c'è un giocatore che tira tanto in doppia cifra intenso e tutto però mi piacerebbe che trovassi un pochettino più di sostanza nelle percentuali parlo di Busetto certo no no certamente è il mio preferito ma perché no per carità si si dà da fare eccetera eccetera però mi aspetterei da un giocatore che è anche il capitano mi aspetterei che è un giocatore come lui che riuscisse a fare quel saltino che gli consentirebbe di fare proprio la differenza ancora di più ecco intensità si dà da fare si sbatte lavora in difesa però ecco una giustata delle percentuali cosa su di lui è un po' chiamato a compiti diversi o gli chiedi lo stesso che gli chiedevi l'anno scorso perché insomma l'anno scorso qualche volta era più facilitato per il tipo di strutturazione di squadra a dare una mano a essere un po' all'around che serviva e adesso deve fare di più ha un po' di responsabilità di più o gli chiedi più o meno le stesse cose ma lui fondamentalmente allora innanzitutto ci tengo a dire lui è stato uno dei primi giocatori che io ho chiesto che restasse che fosse confermato perché è un ragazzo estremamente intelligente soprano come giocatore ovviamente c'è un giocatore molto intelligente sa sa esattamente quello che gli viene chiesto e riesce a riportarlo in campo il percentuale di tiro Sandro ha ragione non sta facendo tanto canestro ma non è quello che gli viene chiesto onestamente lui è un giocatore che le sue responsabilità le prende nella creazione del gioco nello spingere i compagni nell'intensità difensiva e non solo difensiva proprio nell'intensità mentale nella durezza mentale e lo sta facendo bene ti dirò che da quel punto di vista sta facendo esattamente quello che gli viene chiesto per quello che riguarda il ruolo è un pochettino più spinto sul proprio fare il playmaker cioè quello che crea il gioco cosa che faceva già l'anno scorso però l'anno scorso era un po' facilitato da qualche giocatore da diciamo da scorribanda e quindi lì c'erano vari momenti della partita in cui non c'era bisogno di creare perché il gioco veniva fuori un po' da sé quest'anno è un pochettino più cerebrale il discorso del creare il gioco e lui è molto bravo a farlo onestamente la prossima settimana la prossima settimana questo fine settimana naturalmente la prossima partita sarà anche quella del debutto dell'Epi nel nuovo campionato di serie C femminile in casa sabato alle 19 la Karim contro la magica Castel San Pietro sarà un sabato in cui giocheranno tante squadre del territorio la stessa Epi oltre ai Krebs i Bellari in casa il Sant'Arcanzio in casa insomma si gioca tanto di sabato ricordo anche l'abbinamento Krebs-Nuse e Rosencrown per premiare il miglior tiratore di libri questo è un concorso Daniele e Alessandro che c'è credo da sempre da prima della nascita della stessa carta che poteva produrre è un concorso da birra una volta era da birra non so se è ancora da birra credo di sì insomma l'abbinamento con Rosencrown suggerirebbe questo per il momento diamo le statistiche al 100% c'è Joel Myers con 6 su 6 anche anche il Mladenov con 1 su 1 ma insomma dopo credo ci sia bisogno di una quantità media minima di tiri poi un buonissimo percentuale si pala con 7 su 8 vediamo cosa succederà anche da questo punto di vista vi teremo naturalmente aggiornati per il concorso di Krebs-Nuse in collaborazione col Rosencrown per questa sera abbiamo concluso così saluto naturalmente i nostri ospiti Alessandro Ceccoli buonasera buonasera a tutti buonasera Daniele Bacchi buonasera grazie buonasera naturalmente anche a Andrea Maghelli buonasera a voi buonasera a tutti buonasera anche da parte mia e di Federica grazie Federica grazie a te e naturalmente vi diamo appuntamento alla prossima volta per parlare di quello che hanno fatto i Krebs a Lugo e per parlare anche di quello che è successo nelle giovanili e nelle categorie di C Gold C Silver e Serie D per questa sera è tutto buonasera a tutti il programma è stato offerto da Francioni Group e per la prossima volta Grazie a tutti